La situazione economica attuale, il sostegno agli sviluppi futuri, questi temi al centro del confronto tra il presidente della provincia del Bolzano Arno Compacer, l'assessore Arnold Schuller e i rappresentanti dell'economia a Bolzano. Oggi era soprattutto il momento di poter informare le categorie economiche su ciò che è stato fatto, su ciò che è la situazione di bilancio, anche le misure che abbiamo visto nel bilancio di assestamento, sia per quanto riguarda le misure Covid, sia anche per quello che riguarda altre misure che andremo a finanziare adesso con questo assestamento, ma soprattutto poi anche per uno sguardo allo futuro, per decidere assieme quali ulteriori iniziative a sostegno dell'economia in generale e per salvagare i posti di lavoro servono e come li vogliamo impostare. Per quanto riguarda il sostegno finanziario della provincia all'economia, sono stati ricordati da un lato gli aiuti già approvati, dall'altro ulteriori misure future alle risorse contenute nel bilancio di assestamento specificatamente destinate ad ammortizzare le conseguenze della pandemia. Per affrontare questa sfida enorme abbiamo previsto già adesso diverse misure per garantire liquidità, ma dobbiamo elevare anche ulteriori misure per mettere in moto la nostra economia il più presto possibile. Erwin Interegger, direttore di IDM, ha riferito sulle iniziative già attuate e pianificate per rafforzare l'Alto Adige come destinazione sicura per i turisti nei mercati principali di riferimento. Armin Gatterer, in rappresentanza dell'assessore provinciale Philip A. Hammer, ha ribadito che sono necessarie prestazioni straordinarie per far fronte ad una situazione eccezionale. Un obiettivo comune, dare un completo sostegno all'intero tessuto economico sotto diversi punti di vista. L'economia dipende anche molto dal fattore psicologico. Noi sappiamo che adesso è importante anche dare i segnali giusti a tutti i settori economici, ma anche ai lavoratori, alle collaboratrici e ai collaboratori nelle aziende. E questo lo stiamo facendo con le misure che mettiamo in opera perché contano più i fatti che le parole. Nel corso dell'incontro la consigliera di parità Michela Morandini ha presentato anche i punti chiave del disegno di legge anti-mobbing. Il presidente Compatcher vuole dare alle associazioni imprenditoriali la possibilità di partecipare alla scrittura della legge prima dell'analisi del testo da parte della Commissione Legislativa. Grazie a tutti.